Il 2023 sta per giungere al termine ed è arrivato il momento di fare un bilancio delle letture manga. L'anno è corso velocissimo e tra impegni personali, lavorativi e qualche piccolo intoppo di salute, il tempo da dedicare alla lettura è stato molto altalenante. Sono riuscito a leggere tante belle cose e oggi vi racconto le migliori tre letture dell'anno. Amici lettori, bentrovati su questo canale, leggo dunque sono. Io sono Luigi Pio e se mai ci fosse qualcuno tra voi nuovo da queste parti, sappiate che potete aiutarmi iscrivendovi al canale. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Posizione numero 3 La terza posizione della mia personale classifica manga del 2023 spetta di diritto a un manga che vi racconterò meglio nelle prossime settimane, in una recensione più accurata di quanto possa fare in questo video. Un manga semplice ma cavallerisco, dal tratto leggero e dai temi profondi. The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki è il manga della compagnia, il manga che ho letto con interesse e leggerizza. Amicizia, amore, coraggio, forza di volontà sono solo la punta dell'iceberg di ciò che l'autore è stato abile a raccontarci nella sua opera. Il rapporto tra Elisabeth e Meliodas e l'amicizia tra Van e Meliodas sono due tra le cose che ho apprezzato di più. Promosso a pieni voti Posizione numero 2 Prendetevi un minuto e fermatevi, mettetevi comodi e godetevi in tutto il suo splendore. Un manga al limite dell'umano, un manga enorme, figlio di una mente geniale che stravolge i ruoli dei suoi personaggi e tesse una tela intricata di avventure e giochi politici. L'attacco dei giganti di Hajime Isayama è la mia seconda migliore lettura del 2023. Mi pregio di aver avuto la felice idea di spezzare la lettura di quest'opera in due parti, dal volume 1 al volume 20 e dal volume 21 al 34 e mai scelta fu più azzeccata. Facendo in questo modo sono riuscito a separare e avere bene in mente un prima e un dopo nel comportamento di Eren, un protagonista atipico che solo il genio di Isayama poteva rendere così feroce ai limiti della follia con un intento che proprio da protagonista non è. Scontri fuori da ogni logica, intridi sottili ma potenti e concetto di moralità da rivedere per molti personaggi sono gli elementi che di più mi hanno colpito. Se ancora non siete riusciti a leggerlo vi prego fatelo e godete di un'opera spaziale che personalmente considero una delle migliori degli ultimi dieci anni. Posizione numero 1 Eh sì, in posizione numero 1 si colloca il manga che ho divorato con una ferocia inaudita e con una voglia di saperne di più impressionante. Da musicista non potevo non desiderare di leggere opera migliore di Blue Giant, il capolavoro di Shinichi Ishizuka portato per la prima volta in Italia da J-pop. Chiunque si sia mai avvicinato allo studio di un qualsiasi strumento sa benissimo delle difficoltà che si incontrano e della frustrazione che si può provare laddove non si riesca a raggiungere il risultato sperato. Ishizuka è stato perfetto nel raccontare questi aspetti attraverso le pagine del manga. Rappresentare e rendere partecipe il lettore di suoni e sensazioni dei personaggi non era affatto facile ma lui, il nostro sensei, ci è riuscito magistralmente. La potenza e il vigore delle note suonate da Daimiyamoto arrivano sempre come un pugno in pieno volto. Il suo sudore e la sua fatica vibrano nei muscoli di chi legge le pagine del manga. La sua determinazione diventa la nostra determinazione. Fare tutto questo poteva sembrare impossibile e invece l'autore dipinge un quadro ai limiti della perfezione, con un tocco gentile ma deciso, con un sapiente uso di chiaroscuri e con un tratto super distintivo. Che dire, se non si fosse capito ho adorato Blue Giant e non vedo l'ora di riprendere con il sequel Blue Giant Supreme. Ed eccoci arrivati alla fine di una classifica che non è stato semplice e stilare, se non altro perché fortunatamente sono riuscito a leggere molte opere quest'anno. Menzione d'onore spetta a One Piece per il secondo anno di fila perché sono riuscito finalmente a mettermi in pari e a Deadpool Samurai, un adattamento manga di uno dei supereroi più folli che la Marvel abbia mai conosciuto e che, con soli due volumi, mi ha tenuto incollato alle pagine ed è riuscito a farmi divertire tanto. Ma davvero tanto. Fermiamoci qui, grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Ci vediamo presto. Grazie a tutti.